La nuova versione 75 di Google Chrome ha introdotto una nuova funzione che ti renderà estremamente felice se anche tu, come me, sei uno di quelli che mantiene decine di tab aperte in Google Chrome contemporaneamente. Ciao, sono Zanaditurbola.it, la funzionalità della quale sto parlando è l'anteprima delle schede aperte che ora Google Chrome mostra quando si passa con il cursore del mouse su una delle schede che non sono in primo piano in questo momento. Per vedere come attivarla e come funziona, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Bene, la nuova funzionalità innanzitutto è disponibile solamente a partire da Google Chrome versione 75. Per prima cosa, quindi, apriamo il nostro Google Chrome e portiamoci, cliccando appunto sui tre pallini del menu, sotto, guida, informazioni su Google Chrome. Da questa pagina diamo un'occhiata, innanzitutto verranno verificate la disponibilità degli aggiornamenti, si tratta della versione 75. Se per caso non fosse già la versione 75, Chrome si offrirà per noi di installare l'aggiornamento. Una volta completata questa verifica, passiamo alla barra degli indirizzi e sostituiamo là sopra dove c'è l'indirizzo, appunto, Chrome flags come indirizzo e apriamo questo indirizzo, chrome://flags. Entrati a questa pagina dove ci sono tutti i settaggi sperimentali, scriviamo hover, con l'h iniziale, hover nel menu in alto, in modo da avere un filtro su queste opzioni di ricerca. Dobbiamo quindi attivare hovercard, selezioniamo sul menu a tendina e selezioniamo enabled, la prima voce, e quella hovercard image che si trova immediatamente sotto. A questo punto possiamo cliccare sul grande pulsante blu per riavviare Chrome e installabilitare queste modifiche che abbiamo appena settato e la funzionalità sarà effettivamente attiva. Ritornati a Google Chrome possiamo vedere la funzionalità in azione, come dicevamo prima, passando con il cursore del mouse su una delle schede che non sono attive, quindi in primo piano in questo momento. Ad esempio, io per questo esempio sto caricando il nostro sito turbolab.it e la pagina iniziale del nostro forum e anche il nostro canale YouTube. A questo punto è sempre necessario che la pagina si carichi completamente per poter vedere l'anteprima, però una volta che appunto è stata caricata completamente la pagina, possiamo passare con il cursore del mouse su una delle altre tab per vedere questa bella anteprima. Bene da Zandi di turbolab.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace, per me è sempre estremamente importante e quindi grazie in anticipo se lo farai. Fammi sapere nei commenti qua sotto cosa te ne pare di questa nuova funzionalità, se la stavi aspettando, se è una cosa che ti interessa, se la userai e tutto quello che ti passa per la testa. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso, iscriviti che trovi qui sotto e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!